Abbiamo iniziato un percorso virtuoso con Santo Stefano a dicembre. A dicembre abbiamo deciso proprio a Santo Stefano di fare un lavoro di squadra con i 29 comuni, i 29 sindaci che io rappresento con l'Associazione Abruzzo e Molise, affinché ogni comune, ogni sindaco, avesse la possibilità di individuare la particolarità, il progetto specifico sul quale investire per il proprio territorio e poi accanto a questo mettere in piedi tutte le reazioni virtuose che si possono condividere andando in questi comuni. Navelli oggi con la quarta tappa di avvicinamento ha scelto ovviamente lo zafferano, con lo zafferano ci sarà una giornata all'insegna intanto dell'interpretazione no gastronomica che sarà a cura dello chef Zonfa che ci terrà anche una masterclass con l'alberghiero dell'Aquila e quindi faremo un'esperienza innovativa sulla base dello zafferano. Ma avremo anche Grasa Francescato che verrà proprio a raccontare da vicino le esperienze vissute in termini di vicinanza ai temi come quelli di Navelli che sono appunto la cultura da preservare, da sostenere, da difendere e poi abbiamo anche una delegazione di operatori che vengono dall'Arabia Saudita che verranno a conoscere Navelli e faranno anche loro questa esperienza nella masterclass. Non dimenticare che il nome zafferano proviene appunto dal termine arabo che lo fa derivare. Quindi ci fa molto piacere condividere questa esperienza a Navelli soprattutto perché Navelli in questi mesi ha rappresentato l'eccellenza italiana in termini di selezione nella trasmissione alle falde di Mangiaro quindi segnalando l'Abruzzo alla quarta postazione nazionale. Sarà una giornata dedicata a Navelli ma vista in chiave dell'organizzazione del 14esimo Festival Nazionale dei Borghi che si terrà a settembre ad Abbateggio e a Caramanico. Questo è il quarto evento di avvicinamento. Ovviamente non sfuggirà nessuno che sarà un'occasione per festeggiare il successo avuto nella classificazione del Borghi dei Borghi 2022 dove Navelli in rappresentanza di questa magnifica regione si è classificato quarta. Quindi una bella festa, una festa all'insegna delle bellezze d'Abruzzo, delle bellezze di Navelli, delle bellezze dei Borghi dell'associazione. Zafferano e Navelli è una storia basata tutta sullo zafferano che nasce dal 1200 e che ha fatto la ricchezza e la fortuna dei territori dell'Aquilano ma non solo zafferano, ceci, slow food, presidio slow food, pastorizia, altri prodotti importanti come l'olio d'oliva ad esempio che molti non conoscono ma è storia, è storia, architettura, importanza nei secoli di un territorio tutto da scoprire, tutto da conoscere.